sicuramente lo vedremo di più lasagna anche perché calvin c'è infortunato come lo sapete sarà probabilmente fino a gennaio e anche perché sta bene che mi sta bene l'ho visti proprio proprio lo vedo da da un bel po e sta bene tutti i quattro cambi che abbiamo fatto ultima partita mi sono piaciuti questo una una cosa importante sia a bessa sia tamese sia cassale quella è una cosa importante perché partita si gioca fino 90 e alla fine quelli che entrano decidono tante volte la partita io aspetto una partita difficile una squadra che si organizza bene difensivamente si prepara bene per ogni partita questo si vede diciamo che hanno questa spensieretezza tra virgolette di di cosa che tra virgolette non si aspetta niente di loro in senso che io penso che non è anche giusto non è anche giusto però una squadra che c'è giocatori interessanti con la gamba se te le lasci giocare loro anche vogliono giocare sarà importante domani non concedere le transizioni essere noi al massimo facendo la cosa più importante di tutte non sbagliare niente ci vorrà una partita così perché anche anche venezia un po così cioè ti concedono poco e deve essere bravo a sfruttare quello che ti concedono e te non concedere niente a loro ma si lottiamo in 10 per salvarsi c'è in senso che sono tanti c'è se te vedi la classifica lottano in 10 a salvarsi poi magari questo momento sembrano io io considero così poi sembrano quelle tre quattro che ci hanno magari 10 11 punti però io non mi fido di niente di nessuno per me per la squadra è un giocatore importante è anche nazionale titolare nel suo paese questo vuol dire vuol dire tanto e sono fortunato io e la squadra di averlo perché veramente come ha detto lei sta diventando anche un leader perché anche parla di più trasmette sempre di più a giocatori la voglia di vincere la voglia di essere concentrati e questo ci fa ci fa piacere grazie grazie Grazie.